Sì, ma adesso è davvero malissimo. L'istante era lottevole, ma non c'ha pensato usciuto le volte a pensare in fuoco. Snecca il botone! Snecca il botone! Snecca già tre ore fa! Fortissimo! Ancora più tiro l'ha messa lì dove il portiere non poteva davvero arrivare. Fondamentale è la deviazione del padre in questo caso. Ecco il bordo, vediamo anche la quest'altra ancora azione. Grazie Beppe! Grazie Beppe! Beppe!